Ciao a tutti, sono Nell'IRFA e come sapete ormai da ieri è uscito finalmente Overwatch 2. Oggi andremo a parlare del Battle Pass, una delle novità introdotte in questa nuova versione. Inoltre vi ricordo che Overwatch 2 sarà basato su delle stagioni che cambieranno regolarmente ogni 9 settimane e forneranno l'accesso ai nuovi contenuti tramite un Battle Pass specifico. Ciascun Battle Pass sarà legato a un tema unico e avrà ben 80 livelli da andare a sbloccare per ottenere non solo oggetti cosmetici come per esempio skin e gadget ma anche un nuovo eroe come per esempio Chirico nel caso della prima stagione. Quindi andremo a dimenticare le loot box che erano il simbolo dell'Overwatch numero 1 lasciando quindi al posto a questo Battle Pass. Poi è stato introdotto anche il nuovo Shop in Game dove sarà possibile spendere la nuova valuta virtuale ossia gli Overwatch Coins. Dunque come prima cosa avremo due tipi di Battle Pass. Il primo sarà il Battle Pass gratuito che inizierà automaticamente all'avvio di ogni stagione e comprenderà ogni volta un nuovo eroe che potrà essere sbloccato gratuitamente. Trovandosi al tier però 55 questi nuovi eroi richiederanno del tempo per essere sbloccati e non saranno disponibili nella modalità competitiva all'inizio della stagione. Dunque cosa possiamo andare a trovare nei contenuti del Battle Pass quello gratuito? Chirico come nuovo eroe di supporto, due skin leggendarie, due charm per armi, due souvenir, un highlight intro e 15 oggetti aggiuntivi che possono essere emote e altre cose. Il secondo Battle Pass viene chiamato Premium e come dice appunto il nome sarà a pagamento e avrà un prezzo di circa 10 euro. Lo possiamo andare anche ad acquistare tramite gli Overwatch Coins e ce ne serviranno circa 1000. Questa è la nuova valuta che trovate in game. Si potrà quindi acquistare con denaro reale ma anche completando le sfide settimanali. Il Pass Premium è più ricco perché avrete il tier a 80, un accesso istantaneo a ogni eroe e poi altre cose molto importanti tra cui il boost del 15% di punti esperienza e altri bonus che vediamo adesso tutti quanti insieme. Quindi avremo l'accesso meditato a Chirico, 15% di boost sui punti XP, una skin mitica, 5 skin leggendarie, 2 skin epiche, 3 intro play of the game, 4 charm per le armi, 3 emotes, 3 souvenir e 6 pose. Dunque queste sono le principali differenze tra i due Battle Pass. Purtroppo anche stasera continuano a esserci le problematiche per quanto riguardano le code che sono praticamente infinite, problematiche che anche se si dovesse riuscire a entrare si crasha, quindi i vari tipi di errori. Se avete qualche problema guardate il video che ho fatto a riguardo. Speriamo domani che sia una giornata più fortunata di riuscire a entrare dentro così faremo anche dei video un po' nuovi. Ciao a tutti e alla prossima! Grazie a tutti!